io aspettavo un servizio scioccante ora, ieri sera Report aveva presentato il suo servizio sugli attuali proprietari del Milan come un servizio scioccante rivelazioni, vi diremo chi c'è dietro al fondo Elliot e ero lì, ovviamente, con i miei popcorn, la mia bibita dicevo, finalmente, rivelazioni scioccanti, chissà che diranno chissà che diranno, inizia il servizio, lo guardo Blue Sky, Project Red Black, Davanzo, Cerchione e io ero tipo, eh, ok ora mi dici qualcosa che già so? il servizio va avanti, arriva alla fine senza fondamentalmente aver chiuso il cerchio perché poi di fatto di scioccante e rivoluzionario non ho visto nulla, ho visto tutta roba che già fondamentalmente sapevo però reinterpretata, ovviamente, per riuscire a trovare, tra virgolette, il nome poi tutto chiuso con un chiudere una porta al Report e chiudere una porta ai tifosi del Milan ora, sinceramente io posso reggere tutto però arrivato a un certo punto devo anche dire, raga cioè, basta cioè, ora, volete sapere effettivamente che cosa c'è dietro al Milan? se cliccate in descrizione trovate l'articolo di Calcio e Finanza che vi spiega esattamente che cosa c'è dietro al Milan attuale ovvero, qual è l'attuale struttura societaria del Milan vi spiega qual è effettivamente il ruolo di Davanzo e Cerchione vi spiega la differenza tra azioni di classe A, B e C e quindi vi fate più o meno un'idea di come è strutturata la società che controlla la società che controlla il Milan perché poi di base è questo poi, ovviamente, chi c'è dietro ovvero, chi effettivamente mette i soldi non lo possiamo sapere possiamo intuirlo va bene, possiamo arrivarci con l'intuito però, purtroppo, cioè, non lo sappiamo però, diciamo quantomeno, se vogliamo avere un'idea di come funziona il Milan vi linko sta articolo qui sotto in descrizione leggetelo perché è molto, molto interessante senza andare a perdere un'ora di tempo veramente a sentire robe che non hanno né capo né coda bene, detto questo detto questo purtroppo, purtroppo continuano le brutte notizie perché purtroppo Stefano Pioli è risultato positivo al tampone insieme al suo vice Giacomo Morelli faccio personalmente un in bocca al lupo a entrambi vi auguro una pronta guarigione a entrambi però, effettivamente entriamo nella settimana che ci porterà Napoli-Milan senza allenatore di fatto perché siamo senza allenatore senza il vice allenatore quindi chi andrà in panchina a Napoli-Bonera boh, effettivamente al momento non è dato saperlo cioè, io personalmente vorrei sapere un pochino queste robe qui però purtroppo devo leggere ogni giorno cose strane notizie a tema mercato che poi puntualmente non si verificheranno mai 3300 voci cioè, ragazzi veramente lo so che l'ho già detto però sta sosta per le nazionali ha sinceramente rotto le palle cioè, io voglio il calcio giocato perché non ne posso più di tutte queste notizie lo so che si parla ancora di Cialanoglu del suo rinnovo allora, io vi ripeto ancora una volta quello che ho detto nel precedente video ragazzi io non so se Cialanoglu abbia effettivamente chiesto 7 milioni di euro non ho prove io mi devo basare solo su quello che leggono su quello che dicono i giornali e sinceramente visto che i giornali fino a qualche mese fa parlavano di 6 poi di 6,5 ora, di 7 io continuo a dirlo non mi fido e fino a quando non avrò certezze in merito non mi esprimerò posso però dire rinnoveresti Cialanoglu a 7 milioni ecco, 7 milioni secondo me sono un filino tanti questo si può iniziare a dire chiaramente nel momento in cui il Milan dovesse avere un'alternativa è chiaro che rinnovare Cialanoglu a 7 milioni diventa una follia però personalmente vi dico io faccio fatica a credere che Cialanoglu abbia effettivamente chiesto quella cifra anche perché secondo me quella cifra non gliela darà nessuno al mondo devo dire la mia però vabbè ovviamente quella è quella ovviamente è una previsione che non si sa se si avvererà detto questo detto questo vediamo vediamo come andrà a finire perché si continua a parlare di Shoboslai con insistenza potrebbe essere lui effettivamente l'uomo che andrà a sostituire Cialanoglu personalmente non lo so Shoboslai è un giocatore che mi intrigherebbe moltissimo è un giocatore che mi piace tanto però anche lì guarda caso arriva la sosta delle nazionali e guarda caso si riaccendono i discorsi su Shoboslai ragazzi cioè è tutta cioè io ormai a ste cose cioè non ci penso più cioè preferisco non pensarci concentrarmi sul calcio giocato il mercato arriverà a gennaio non si sa effettivamente come andranno a finire i rinnovi cioè è presto è veramente presto è semplicemente un modo così per così per vendere per fare interazioni è tutto costruito secondo me a tavolino cioè guarda caso cioè guarda caso iniziano a parlare di Shoboslai quando? quando non c'è il campionato c'è la sosta siccome non gliene frega niente a nessuno del calcio durante la sosta a parte quei due giorni in cui gioca l'Italia del resto poi del calcio se ne fregano tutti tiriamo fuori il nome tizio interessato a Ronaldo quell'altro interessato a Messi quel tizio vuole Neymar è una roba già vista rivista e stravista quindi Shoboslai mi piace per carità però la tempistica di tutte ste notizie e il periodo soprattutto mi puzzano un po' così come mi puzzano tutte ste notizie su Cialanoglu così come mi puzzano pure tutte ste notizie a livello societario ripeto si parla troppo si parla tanto solo perché non ci sono le partite quindi visto che non ci sono le partite parliamo 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 ora magari qualche notizia vera tra tutte queste ci sarà spero Shoboslai sinceramente spero che sia effettivamente un nome su cui il Milan è davvero sopra però raga c'è quello che dico andarci dietro adesso non serve a noi cioè se il Milan ci va dietro ok ma a noi che cosa ne entra nulla sinceramente nulla rischiamo soltanto di crearci aspettative sulle su un giocatore che magari non arriverà mai quindi che dire niente vi invito semplicemente a cliccare tutti i link in descrizione leggete quest'articolo di calcio e finanza ricordo così capite per bene come è strutturato in questo momento il Milan chi mette i soldi chi mette i soldi vabbè cioè chi mette i soldi si sa cioè la persona fisica che mette i soldi non si sa però vabbè leggetelo in descrizione trovate tutti i miei profili social Instagram Twitter e gruppo Facebook trovate il link Paypal qualora voleste sostenere il canale vi informo che nei prossimi giorni arriveranno delle novità interessanti magari un'altra live insieme ad altri youtuber così per fare sì per rendere il tutto un po' più frizzantino e niente ragazzi io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video